Lamentele sul parcheggio Mecenate, tanto discusso e poco usato di Arezzo. Manuela ci scrive, all'insegna del mercato internazionale tutti avranno avuto modo di apprezzare finalmente il fantastico park Mecenate. Bene, sicuramente una mano la data, se non fosse che ieri sera, ovviamente dell'altra settimana, alle 22.15 alcune persone con rispettive auto sono rimaste intrappolate per ben un'ora dentro la parte inferiore. Bloccati qui questi signori non hanno potuto avvertire nessuno perché non c'era nessun numero dei referenti Atam che rispondeva, in fondo loro hanno orari di lavoro, ovviamente era fuori orario. I carabinieri che sono stati interpellati davano il numero dei vigili urbani dove un'incaricata, non sapendo cosa fare, assicurava che da stamani avrebbero preso provvedimenti, cioè dal giorno dopo. Nel frattempo, semmai, bisognava fare leva sulle sbarre o sul distributore dei tagliandi. Ovviamente la signora che ci ha mandato questa lamentele si è infervorita, ci mancava pure che magari facendo leva o quant'altro avesse provocato qualche danno che poi gli sarebbe stato anche addebitato. Intorno alle 23, quindi siamo alle 11 già di notte, per caso è passata una volante della polizia e con fare misto alla rassegnazione, nonché alla dovuta ironia, ci ha accompagnato alla ricerca di un numero alternativo per emergenza perché se poi ci fossero state delle conseguenze avremmo dovuto pure dimostrare di aver fatto tutti i tentativi. Se poi sei tu in emergenza, mentre fai tentativi poco importa, alla fine che cosa hanno trovato? Alla fine, dice Emanuela, abbiamo trovato un adesivo della Telecontrol che noi, col cazzo che abbiamo trovato, diametro circa 7 cm nelle sbarre delle uscite dei piani superiori. Ora, va bene che ci sono tante macchine, ma voglio dire, noi tra tutto questo traffico non riusciamo a vedere queste sbarre. Alla fine il bollino della Telecontrol lo abbiamo trovato anche noi, ma era a piano terra. Alle 23.20 riuscivano a farli uscire da questa sbarra forzandola. Emanuela chiede, e ora, a chi ci rivolgiamo per i danni? Mi rifaccia la domanda.